Motorola torna con la sua famiglia Edge, siamo alla serie 50 e questo è Pro quindi, Motorola Edge 50 Pro uno smartphone che vuole essere diverso, che vuole continuare la strada che Motorola ha scelto per questa famiglia ovvero essere dei dispositivi diversi dalla massa, che si distinguono dal mucchio, ve lo dico subito Motorola ci è riuscito anche con questo Pro, ha un sacco di cose da dirvi ma ovviamente prima di iniziare il consiglio è il solito, se non l'avete mai fatto, malissimo iscrivetevi qui e attivate la campanella delle notifiche, ovviamente sto scherzando, fate quello che volete ma se siete curiosi e volete avere un po' di anteprima, un po' di backstage seguiteci soprattutto nel canale Whatsapp che trovate in descrizione non perdiamoci in altre parole e iniziamo non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing e posso ormai dire che gli unboxing Motorola sono fra i migliori in assoluto intanto vabbè, confezione completamente priva di plastica, anche le plastichine che proteggono lo smartphone sono tutte di carta non c'è niente in plastica dentro ha il coperchio, ma ancora prima di dentro ha il coperchio vi ricordo che io ho un'ossessione per questa fragranza Motorola che è sostanzialmente niente perché non si compra certo uno smartphone per la fragranza Motorola, però a forza di dirlo, a forza di sentirlo, a forza di raccontarlo è comunque un qualcosa che rimane nella testa delle persone qui abbiamo la manualistica, ma soprattutto questa cover che è dello stesso colore dello smartphone è semitrasparente, leggermente flessibile, ma comunque rigida, non è morbida non protegge i lati che sono sottilissimi e quindi forse era un po' difficile, non lo so, probabilmente avrebbe dato fastidio allo schermo curvo e qui abbiamo lo smartphone, si aggancia, devo dire, in modo molto solido e anche io che non amo le cover ho utilizzato questa cover per un paio di giorni ma la confezione non finisce qui perché c'è dentro il cavo USB-C, USB-C ma soprattutto questo che è l'alimentatore addirittura da 125 watt quando i produttori iniziano a levare gli alimentatori della confezione Motorola alza il tiro con un alimentatore da 125 watt ovviamente una cosa per cui questo smartphone si distingue, lo capite da voi è il design, i materiali, i colori, visto che prosegue la collaborazione con Pantone ma adesso vi racconto tutto andiamo a vedere un pochino più da vicino questo Edge 50 Pro in questa colorazione lavanda molto molto particolare devo dire che Motorola sta usando molto sui colori e secondo me sta facendo molto bene perché degli smartphone tutti nello stesso colore con questi colori noiosi, soprattutto negli ultimi anni io veramente ne ho piene le scatole quindi qualsiasi cosa non sia il solito grigino, crema, qualsiasi cosa per me ben venga e questo lavanda è molto particolare la finitura qui è in pelle vegana che sostanzialmente, tecnicamente vuol dire plastica e vediamo una cosa molto bella questa l'abbiamo già vista su un altro brand ma ritrovarla mi fa moltissimo piacere perché non la stavo usando più nessuno quindi questa sorta di docile, di dolce non docile di dolce collina che va a salire qui per creare questo blocco fotografico mi piace moltissimo tra l'altro il blocco fotografico, guardate, sporge veramente pochissimo ecco, riesco a farvelo vedere un pochino meglio da questa prospettiva le fotocamere hanno un piccolissimo gradino a loro volta ma veramente un design molto pulito, molto gradevole in più lo smartphone è spesso solo 8,19 mm e pesa 186 grammi le altre misure sono 161,23 e 72,4 uno smartphone veramente dal punto di vista estetico molto curato ma soprattutto leggero e sottile che è qualcosa che si vede sempre meno questo è un punto super distintivo di questo smartphone la parte posteriore in più va a spiovere sul profilo in alluminio così come il display e quindi il bordo qui laterale è ancora più sottile e lo rende appunto ancora più piacevole sia al tatto ma soprattutto proprio nell'utilizzo quotidiano uno smartphone che trasmette un'ottima sensazione di qualità sia costruttiva che di design appunto vi ricordo profilo interamente in alluminio in più è IP68 quindi resiste ad acqua e polvere non è più scivoloso che era veramente la caratteristica distintiva di Edge 40 Pro dello scorso anno è decisamente più bello della media insomma per me è super promosso tra l'altro io non sono in assoluto un super fan della plastica nel senso intesa questa con effetto finta pelle ma qui è realizzata molto bene quindi mi piace molto e in più mi piaceva molto anche la cover che vi ho fatto vedere quindi un pacchetto completo veramente notevole da questo punto di vista uno smartphone che differisce e si distingue dalla massa sotto abbiamo la porta usb c lo speaker con due fessure il carellino per la sim il microfono e poi abbiamo pulito il lato sinistro il logo dolby atmos con il secondo microfono qui sulla parte superiore e tasto di accensione e tasti del volume invece qui sul fianco destro assieme ad un microfono aggiuntivo la scheda tecnica è molto interessante ci sono anche delle cose che possono un po' stonare ma di cui parleremo in modo un pochino più approfondito e non è lo stesso pro dell'anno scorso perché quest'anno abbiamo un ultra che si va a prendere la posizione più alta lui si posiziona un pochino più in basso come vedremo il prezzo ovviamente rifletterà questa cosa ma andiamo a scoprire meglio questa scheda tecnica andiamo a vedere le specifiche tecniche di questo smartphone mettiamolo un attimo qui da parte abbiamo un processore snapdragon 7 generazione 3 octa corda 2.63 gigahertz realizzato a 4 nanometri con gpu adreno 720 12 giga di ram lpddr 4x 512 giga di memoria interna ufs 2.2 ci torno su questa accoppiata perché ho un po' di cose da dire memoria purtroppo non espandibile connettività 5g wifi 6 e bluetooth 5.4 lettore di impronte digitali ottico all'interno del display usb c3.1 e il supporto e sim che l'anno scorso non c'era ed era secondo me la mancanza più grande del pro dello scorso anno che però il prodotto scorso anno era di fascia superiore che quest'anno qui è riempita dall'ultra quindi l'anno scorso era particolarmente grave e quest'anno invece è particolarmente gradito non c'è il jack audio c'è ovviamente il chip nfc cosa vi devo dire dell'accoppiata di memoria intanto che ufs 2.2 è la cosa che mi ha fatto più storcere il naso quando ho studiato la scheda tecnica di questo smartphone poi usandolo mi sono reso conto che in realtà c'è qualche rallentamento nel software qualche baghettino qualche perdita di frame ma sono cose non imputabili all'ufs 2.2 che invece sono qualcosa che dovresti notare quando installi applicazioni quando magari apri software non quando scorri i menu quello non è cose che dovrebbero essere relative all'ufs 2.2 quindi ho fatto un po di test perché non mi tornava e mi sono reso conto di una cosa vi faccio vedere uno screenshot che ho realizzato con il test di velocità su questo smartphone e ho fatto più prove non una sola ovviamente è risultato più veloce di alcune di molte ufs 3.1 per esempio ho preso fra tutti oneplus 12 r che è il risultato più lento quindi non affidatevi sempre alle schere tecniche le recensioni servono anche a questo se no altrimenti vi basterebbe guardare la scheda tecnica ufs 2.2 che per qualche ragione in qualche modo con qualche magia motorola è riuscita a spremere oltre veramente i limiti che avevamo visto in passato battendo smartphone che sulla scheda tecnica avevano memorie decisamente più veloci questo non è più come vi ho anticipato uno smartphone premium quindi la scheda prevede uno snapdragon di settima non di settima generazione ma uno snapdragon 7 non più uno snapdragon 8 come vedremo ovviamente questo si rifletterà anche sul prezzo è uno smartphone di fascia medio alta una cosa che mi piace moltissimo è la singola accoppiata di memoria 12 512 mi piace che l'accoppiata sia una sola e mi piace che sia così tanta memoria ora il turno del display di questo smartphone tra l'altro la collaborazione pantone prosegue anche nella fotocamera e nel display per avere una calibrazione che sia realistica e poi come vedremo è anche la ragione per cui il settaggio di default non è in realtà il mio preferito il realismo ha stancato ovviamente sono ironico ma c'è anche un fondo di verità e questo display ha varie cose che sono meglio della media degli smartphone se vi ho creato un po di confusione ora vi chiarisco tutto il display di questo smartphone è da 6.7 pollici amoled risoluzione 1220 x 2712 refresh rate fino a 144 hertz hdr 10 2000 nit luminosità di picco e moto display una carrellata lunghissima di specifiche che adesso commenterò vado magari a mettere un tema leggermente diverso che possa far risaltare ancora di più questo questo display ecco qua devo dire che ci sono tante cose interessanti da dire allora intanto il display è curvo so che questo a qualcuno non piacerà a me piace c'è un piccolo contro che vi racconto nella parte della fotocamera ma a me gli schermi curvi lo sapete piace piacciono è utile no non è utile lo schermo curvo non serve a niente è solo molto bello a me piace moltissimo refresh rate dove tutti si fermano a 120 hertz lui arriva a 144 hertz addirittura dove tutti si fermano al full hd lui arriva a 1220 p insomma ancora una volta molto l'ora ha spinto l'asticella del display un pochino più in alto il display di questo smartphone mi è piaciuto molto se non vado errato di default il bilanciamento dei colori era un po conservativo ma io ho scelto i colori brillanti erano su naturali di default quindi un po più veri ma a me piacciono molto vividi e ho scelto brillanti e questo display è veramente una bomba moto display che abbiamo così poi se non sbaglio mi sa che non si chiama più così praticamente nessun menu vi mostra le notifiche tra l'altro tappando è possibile vederle per esteso vi mostra il simbolo ovviamente dello sblocco vi mostra l'orario vi mostra la data purtroppo non è un vero always on display perché quando non interagite non sfiorate il vostro smartphone vedete non c'è nulla sul display questa è una cosa che secondo me motorola dovrebbe implementare prima o poi in futuro sul software motorola fa promesse per fortuna promette tre anni di aggiornamenti di nuova versione software quindi fino ad android 17 quattro anni di patch di sicurezza non saranno i sette anni di certi concorrenti ma devo dire che questa configurazione 34 secondo me è quella standard sotto cui nessun produttore dovrebbe scendere e che secondo me è assolutamente accettabile ma adesso vediamo però come è fatto il software parliamo del software di questo smartphone software che ha tante cose interessanti da scoprire ancora una volta guardandolo così è un android stock che più stock non si può e poi scavando saltano fuori tutta una serie di funzionalità salta fuori per esempio il no facciamo così salta fuori il menu laterale che vi permette di aprire le applicazioni in finestra ridimensionarle ridurle a icona c'è il moto connect c'è il ready for c'è la personalizzazione veramente molto approfondita con tantissime impostazioni c'è una funzione con cui avevo creato quello sfondo che avete visto prima in cui sostanzialmente voi scattate una foto selezionate una foto e lui vi crea un asset un set di sfondi fra cui scegliere fatti con intelligenza artificiale quindi magari se siete vestiti in un certo modo potete questa è un po l'idea vedete si chiama proprio stile in sincronia vi fate una foto come siete vestiti e lui vi crea lo sfondo vabbè è una piccola chicca che però serve ovviamente fino a un certo punto c'è la modalità ad una mano quindi potete andare a spostare lo schermo in basso e usare solo la parte nella porzione inferiore poi rimetterlo full screen vedete che comunque l'interfaccia è molto veloce non vi nego che ci sono dei rari sporadici ma comunque presenti e quindi ve li segnalo cali di frame rate a volte quando ci si sposta da una parte all'altra c'è il game time poi vi parlerò di gioco c'è il moto secure che vi permette di creare fra le altre cose una cartella sicura e nascoste tutte qui in una cartellina quindi devo dire con con tanta modestia se vogliamo motorola mette tutto in una cartellina e dice vabbè vedete voi fate un po voi ci sono una serie di funzionalità interessanti in moto c'è un po c'è un po la raccolta di tutte le funzioni che sappiamo contraddistinguere motorola negli anni quindi tutti i vari gesti io ancora amo quello della fotocamera e quello dell'apertura della torcia però insomma ci sono tutta una serie di funzionalità tra cui quelle nuove di moto secure e poi ci sono altre funzioni come il family space che è una sorta di controllo familiare la creazione di spazi sicuri per i propri figli che è diciamo una versione migliorata rispetto a quella che offre android nella sua versione stock e poi mi piace molto invece unplugged 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 dove eccolo qua moto unplugged che vi permette di creare un un ambiente diciamo stress free da utilizzare quando non volete essere interrotti da appunto interruzioni notifiche applicazioni o funzionalità che non volete potete addirittura disabilitare le sveglie e i calendari e avere appunto un ambiente in cui essere concentrati su quello che state facendo quindi per me il software appunto è veramente super promosso perché vi dà l'esperienza android stock ma con tante piccole chicche e parliamo di fotocamere perché nonostante questo smartphone sia di una fascia se vogliamo inferiore rispetto allo scorso anno al modello dello scorso anno con le stesse caratteristiche le fotocamere principali rimangono tre e rimane soprattutto la fotocamera zoom che aumenta anche il suo rapporto zoom arrivando quindi a 3x il che secondo me è fantastico mentre le altre fotocamere sono una principale da 50 megapixel f14 stabilizzata otticamente una 13 megapixel grande angolare f22 con autofocus per le macro e frontalmente una 50 megapixel f19 con autofocus andiamo a vedere l'interfaccia di scatto di motorola che è chiarissima con qui i tasti del dello zoom vi ricordo che il 3x è ottico il 2x è un'interpolazione dell'1x la grande angolare vi dico questa interfaccia qualche baghettino ce l'ha nel senso a volte passare da 1 a 05 se siete soprattutto all'esterno l'esposizione ci mette un secondo a ricalcolarsi vi segnalo poi come è come vi dicevo prima i bordi curvi quando lo usate nella normalità a volte succede che lo afferrate in un modo in cui poi la fotocamera non scatta perché lo state arreggendo e ci sono dei tocchi involontari piccole cose che possono sicuramente essere corrette via software e poi c'è dello shutter lag ovvero voi scattate ma la foto viene di un istante successivo a quello che voi avreste voluto avete visto anche qui qualche calo di frame rate che tra le altre cose vi anticipo si riflette nella registrazione video che non è proprio perfetta qui potete creare delle impostazioni per le immagini ho disabilitato questa correzione automatica che è attiva di default ma devo dire che non mi ha fatto impazzire sulla gestione delle luci sulla gestione del punto di bianco ho preferito tenerla disattivata mi è piaciuto decisamente di più l'interfaccia per il resto è chiarissima video rallentatore ci sono un sacco di funzionalità mi piace molto il colore campione che c'è anche con il video ha lo stesso nome ma vedete qui c'è il simbolino del video la doppia ripresa insomma tutta una serie di funzioni devo dire comunque molto interessanti ritratto con l'indicazione delle ottiche in millimetri questa è una cosa che ormai ora va molto di moda ma andiamo al nocciolo come vengono le foto le foto vengono allora devo dire bene dal sensore principale allora il sensore che mi è piaciuto di più è lo zoom 3x ok la risoluzione non è altissima ma avere un 3x io adoro fare foto con il 3x perché si fanno foto con prospettive veramente interessantissime nel 90 per cento dei casi se la distanza fra voi del soggetto lo consente le foto 3x non solo con questo smartphone edico in generale hanno sempre un sono sempre più interessanti non si può usare sempre ovviamente non ha senso quindi ha senso per i ritratti ha senso per alcuni dettagli non ha senso ovviamente per esempio per i panorami però si riescono a fare veramente le foto interessanti tra l'altro apertura f2.0 quindi si riesce a usare fino a una situazione di poca luce abbastanza spinta non spintissima ma abbastanza la 50 megapixel e addirittura f1.4 si riescono a fare veramente delle belle foto ricche di dettagli come vi dicevo anche prima anche disabilitando la correzione automatica che io ve lo consiglio non è perfetta sulle gestioni delle altre luci o sulle gestioni del punto di bianco a volte facendo due foto consecutive il punto di bianco è venuto diverso a volte con situazioni di luce un pochino più difficili ci sono delle zone leggermente bruciate ci sono quindi ambiti nella fotocamera di questo smartphone che un aggiornamento software può fare meglio la grandangolare nel complesso bene che c'è anche l'autofocus c'è il laser autofocus per questo per questo smartphone e i selfie sono ok anche questi non il punto più eccezionale però insomma secondo me qui la chiave è la principale e la soprattutto la fotocamera zoom non mi hanno convinto invece i video devo essere sincero qui l'aggiornamento un aggiornamento software ipotetico di cui sto parlando sicuramente ne potrebbe beneficiare di più di tutti mi piace il fatto che in 4k si possa fare switch fra le fotocamere fra tutte le fotocamere però ci sono dei cali di frame un po' fastidiosi un po' in quasi tutti i contesti quindi insomma li vedete i video non sono brutti ma sinceramente mi aspettavo decisamente di più ci sono dei margini c'è anche un po' di flicker a volte quando l'esposizione non è calcolata perfettamente e anche sul sul punto di bianco c'è sicuramente qualcosa che si può migliorare da questo punto di vista dei video ed eccoci qua con war thunder così testiamo le funzionalità di gioco questo è il abbassa un po il volume perché abbastanza alto quindi supporto stereo dolby atmos questo è il game time con tutte queste funzionalità possibilità di aprire le app in finestra e questo per prendermi una silurata cosmica sto giocando al massimo dei dettagli vedete il frame rate l fps sono a circa 40 50 fps in questo momento il ping è abbastanza consistente ma sono connesso non tramite la wifi dell'ufficio quindi non sto affatto sfruttando la connessione migliore e si riesce a giocare bene lo smartphone ovviamente diventa tiepido come con tutti gli smartphone di di qualsiasi fascia quando gioco a questo gioco mi stanno devastando completamente però insomma vedete che riuscite a giocare a giochi 3d come questi con veramente un dettaglio notevole e questo vabbè è lo snapdragon 7 generazione 3 non ci aspettavamo niente di meglio mentre mi prendo delle super silurate usciamo di getto vi parlo di batteria 4500 mAh era comprensibile considerando che questo smart ovviamente è sottile e leggero a differenza di buona parte dei concorrenti ma devo dire nonostante questo l'autonomia è veramente veramente molto buono molto buona no ma buona buona per avere 4500 mAh la solita magia software di motorola con cui si riesce ad arrivare a fine giornata anche con un utilizzo medio medio intenso con utilizzo super intenso 4500 mAh ovviamente mostra un po il fianco anche su questo smartphone ma veramente ricarica fulminea ricarica cablata 125 watt il che vuol dire da 0 da 0 non dal 20 per cento ma da 0 a 100 in 18 minuti io l'ho testato in aeroporto in caso di necessità perché non avevo lo smartphone carico dalla notte è stato veramente sorprendente cioè il tempo che ho risposto a qualche mail mail e lo smartphone era completamente carico in più rimane la ricarica wireless ma diventa molto più veloce visto che arriva addirittura a 50 watt più di tantissimi premium come anche la ricarica cablata e c'è anche la ricarica wireless inversa a 10 watt e siamo arrivati quindi alle conclusioni ho speso tante belle parole per questo smartphone che mi è piaciuto più di quanto credessi perché perché sono partito leggendo la scheda tecnica e con un paio di dubbi sulla scheda tecnica sono partito conoscendo già il prezzo che è una cosa che tra l'altro ammetto non succede spesso ma in questo caso ho ricevuto il prezzo praticamente insieme allo smartphone e quindi ho saputo fin da subito quanto costava questo smartphone mentre invece a volte recensisco gli smartphone con un processo un po diverso lo provo mi faccio un'idea poi guardo il prezzo e ragiono su quello che mi aspettavo su quel prezzo in questo caso essendo partiti subito dal prezzo mi aspettavo qualcosa di forse diverso perché perché il prezzo intanto è decisamente più basso di quello dello scorso anno che era 999 euro se non vado errato qui siamo a 699 euro ma è uno smartphone di un'altra fascia quindi non si può fare il confronto con il prezzo dello scorso anno 699 euro secondo me sono tanti per questo smartphone che dalla sua sicuramente ha una scheda tecnica ghiotta su alcune cose ci sono alcune cose che sono veramente un overkill che stracciano totalmente la concorrenza per esempio il display per esempio la velocità di ricarica e soprattutto il fatto che questo smartphone sia sottile e leggero chi cerca esattamente queste cose troverai 699 euro un prezzo corretto per tutto il resto del pubblico che ovviamente può avere esigenze varie magari dice a me dell'i sim non frega nulla magari volevo un po più di batteria sono disposto a scendere a compromessi perché comunque questo ha una ricarica velocissima tantissime caratteristiche interessanti 699 euro potrebbero essere tanti 100 euro in meno come prezzo di partenza secondo me sarebbe stato il suo è vero che motorola però ha una sua promo di lancio che sconta lo smartphone proprio di 100 euro ma soltanto con il trade in se avete uno smartphone da restituire può essere interessante perché oltre al valore dello smartphone loro sconteranno 100 euro su questo smartphone quindi interessante per chi non ha uno smartphone da restituire ovviamente il prezzo di aggancio diciamo così per la partenza potrebbe essere decisamente alto aspettiamo quindi sicuramente altri sconti nei prossimi mesi in modo che tutte le persone incuriosite da questo smartphone possano riuscire a provarlo grazie per essere arrivati fino a qui io vi ricordo disclaimer finale questo sample c'è stato fornito direttamente da motorola che però non ha avuto modo di vedere questa recensione in anticipo la sta guardando quindi per la prima volta insieme a voi e che non ha fornito nessun tipo di compenso economico per questa prova grazie per essere arrivati fino a qui io vi saluto se non l'avete mai fatto vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche e ci vediamo a un prossimo video